eccoci come ogni lunedì mattina pronti a parlare della domenica di serie a e in questo caso di un'altra domenica da fuochi d'artificio perché la juventus ha ripreso l'inter in vetta la classifica la squadra di conte ha perso i primi punti esterni della sua stagione non solo la roma anche se con qualche pattimento nel primo tempo tiene il passo l'atalanta invece dopo la gloria di champions league ha trovato un inciampo a bologna verona e torino ci hanno regalato un lunch match ai limiti del surreale ai limiti dell'assurdo e poi c'è il milan che festeggia la sua storia ma un po meno il suo presente questi i temi di una domenica di serie a che si è chiusa veramente col botto e infatti parto dalla fine parto dal posticipo parto dalla serata del franchi da fiorentina inter 1 a 1 sembrava un'altra serata apparecchiata per dare all'inter un premio perché l'inter è arrivata a un paio di minuti dal centrare l'ottava vittoria in otto trasferte poi l'ha buttata via l'ha buttata via è forse una parola grossa però non l'ha presa perché la fiorentina ha riacciuffato l'1 a 1 e allora si chiude una settimana francamente da dimenticare o forse da mandare a memoria per la squadra di antonio conte sicuramente quello che non ho visto nell'inter sono stati strascichi dall'eliminazione di champions league no quelli non li ho visti l'inter ha approcciato anche bene la partita ha fatto globalmente una buona partita quello che ho visto e che è inevitabile vedere dopo tutto quello che abbiamo visto in questi mesi è un inter stanca è un inter che non riesce ad arrivare alla finale della partita è un inter che ha dato tutto e che adesso è in riserva per cui è inevitabile che si conceda qualcosa che si debba mollare qualcosa quasi inevitabile perché poi come vi dicevo secondo me l'inter a firenze ha fatto una buona partita per quelle che erano le sue possibilità le sue energie anche le sue scarsissime risorse ha dovuto debuttare un ragazzino in mezzo al campo subentrando nel secondo tempo come agume un bel prospetto però un ragazzo non pronto per essere un giocatore anche di riferimento vista la zona del campo in cui va agire in una squadra che lotta per conquistare nello scudetto perché vi dico però quasi inevitabile perché alla fine l'inter non ha fatto il risultato pieno per degli errori degli errori anche abbastanza significativi non voglio usare il termine gravi degli errori comunque estremamente impattanti che hanno influito sul risultato errori portati da elementi che prima questo tipo di errori non li facevano ma che in questo momento sono palesemente piuttosto obnubilati dalla fatica e dall'aver dovuto andare a mille senza poter mai rifiatare quando forse ne avevano bisogno e i volti che fotografano questo tipo di concetto sono fondamentalmente uno è quello di skriniar skriniar indiscutibile skriniar è uno dei migliori difensori del calcio italiano e forse addirittura del calcio europeo però nelle ultime due partite l'inter ha preso due gol nel finale costati una sconfitta contro il barça e il pareggio contro la fiorentina perché per due volte skriniar non ha fatto il proprio dovere ha lasciato calciare ansufati piuttosto liberamente in champions league ha accompagnato vlaovic non credo tanto sottovalutandolo quanto sperando che non trovasse un super gol che invece poi vlaovic ha tirato fuori dal cilindro ma si è visto proprio uno skriniar arrancare uno sperare appunto in qualcosa che in un'altra situazione di lucidità e di condizione fisica non si sarebbe limitato a sperare avrebbe agito e vlaovic non avrebbe neanche sentito il profumo dell'area di rigore parlando di area di rigore spostiamoci nell'altra ancora una volta lukaku pur avendo giocato una partita generosa una partita di fondamentale impatto fisico sottoporta è mancato e della terza gara consecutiva perché abbiamo negli occhi si il pallone sparato addosso a drongowski al franchi che poteva di fatto chiudere i conti ma abbiamo negli occhi anche forse soprattutto le occasioni vanificate contro il barcellona e se torniamo indietro di un'altra partita ci ritorna negli occhi anche quel pallone sbagliato tu per tu con mirante nei primi minuti di interroma che poteva indirizzare la serata in modo completamente diverso però io non cambio idea su lukaku ci vuole molto molto di più per convincermi di quello che ho sempre pensato e che ho continuato a dirvi fin dal momento in cui ha firmato per l'inter ovvero che è un grande giocatore io vedo lukaku stanco io vedo lukaku che ancora problemi alla schiena fateci caso andate a rivedere quell'azione in cui riesce a girare bene sul pallone al limite dell'area avrebbe anche una buona visuale della porta e partorisce un sinistro abbastanza loffio che arriva centralmente fra le mani di drongowski bene in quel momento il vero lukaku avrebbe calciato in modo diverso soprattutto se avete occasione di rivedere l'azione guardate si porta le mani dietro la schiena nella zona lombare e sappiamo quanto il mal di schiena abbia influito all'inizio della stagione del gigante belga sono tutti tirati al limite quando sei tirato al limite è facile commettere degli errori chi non li commette è l'autaro l'autaro ancora una volta ha giocato una partita dominante aveva segnato anche gol del 2 a 0 annullato giustamente per fuorigioco di lukaku si è reso pericoloso se avesse segnato quella rovesciata improvvisa probabilmente si sarebbero ribaltati divani in tutta italia l'autaro però è stato ammonito e l'autaro non ci sarà all'ultima di campionato sarà squalificato quindi vedremo come conte neutralizzerà l'assenza di quello che ad oggi è il suo giocatore più importante il suo giocatore che dà più impulsi il suo giocatore più forte prendendo tutta la rosa l'altro che continua ad esprimere continuità il portiere andanovic ancora due parate di altissimo livello di grandissima caratura in momenti determinanti su conclusioni da fuori andanovic sta facendo un altro campionato strepitoso anche se l'encomio per quanto riguarda l'inter in questa partita se lo prende di diritto un grande giocatore un giocatore forse arrivato alla fase di tramonto della carriera un giocatore che addirittura nei primi mesi di stagione era considerato l'ultima ruota del carro non faceva neanche un minuto un giocatore che ha segnato che ha giocato una partita elegantissima che ha fatto vedere di essere un dicitore finissimo del centrocampo ovvero Borca Valero giù il cappello quando si parla di Borca Valero ripeto è a fine carriera chiaramente non è mai stato un grande agonista e non lo può essere a maggior ragione ora in certe partite Borca Valero forse non è più adatto per stare a centrocampo soprattutto in questo calcio estremamente agonistico però Borca Valero è un giocatore come ne nascono pochi quindi ci vuole sempre rispetto quando si parla dei grandi giocatori quello invece di cui non ho tanta voglia di parlare anche se me lo chiedete tutti è della polemica fra l'inter la stampa l'allenatore dell'inter e un certo specifico organo di stampa qua parliamo di altro parliamo di calcio mi limito a dire una cosa sono d'accordo sul fatto che certe forme di giornalismo di quest'epoca siano da contrastare personalmente visto che appartengo alla categoria mi danno ramarico mi danno dispiacere mi danno anche una punta di rabbia e infatti vedete che qui sul nostro canale il linguaggio è di un certo modo il pensiero è di un certo modo tutto estremamente definito e sbandierato in una direzione detto questo io nella vita non sarò mai d'accordo con il concetto colpirne uno per educarne 100 figuriamoci con il concetto colpirli tutti per educarne uno ho finito qua stop non vado avanti torniamo a parlare di cose più interessanti torniamo a parlare di calcio e allora parliamo anche della fiorentina in riferimento alla partita del franchi perché la fiorentina si è regalata un sorriso ma con questo 1 a 1 strappato al 92esimo non ha risolto praticamente nulla sicuramente è una soddisfazione che ci sta per l'ambiente per tutto quanto ma la classifica rimane quella e rimane quella anche la squadra perché poi la partita si è vista al di là del capolavoro finale di vlavic la fiorentina è chiaramente una squadra senza un leader soprattutto ora che liberi è postoperato e chiesa è costantemente sofferente sia sul piano fisico che sul piano mentale mancano quelli che dovrebbero essere i due uomini principali della squadra e di conseguenza l'impressione è che questo gruppo questa formazione questa squadra di calcio non abbia una non una struttura ma una statura una dimensione significativa ci sono anche delle colpe dell'allenatore però ci sono anche dei limiti appunto strutturali perché il centrocampo che all'inizio dell'anno era il motore assoluto di questa squadra quasi una scoperta di montella questo trivote formato da badegli come vertice basso da pulgar mezzala inventate da castrovilli straordinaria rivelazione adesso è chiaramente sceso di giri perché pulgar è diventato quasi un fantasma badegli fa un po fatica e anche lo stesso castrovilli che rimane dei tre centrocampisti quello che si esprime secondo me su livelli migliori però è un filino in affanno anche perché il suo primo campionato di serie a è praticamente non può mai permettersi di riposare di conseguenza questa diminuzione del contributo del centrocampo porta la difesa ad essere sempre più esposta e sono tante le situazioni in cui la difesa viene infilata a volte ci sono anche degli errori individuali però in generale soffre ho notato un miglioramento del laterale destro lirola che doveva essere uno degli acquisti più importanti che fin qui ha totalmente deluso mentre ieri sera contro l'inter ha fatto una buona partita però ripeto la fiorentina è questa la fiorentina è una squadra che è andata oltre le proprie possibilità all'inizio della stagione adesso probabilmente ha anche dei pesi psicologici e in questo senso l'aver riacciuffato il pareggio con l'inter può essere un aiuto però è una squadra che ha bisogno di una scossa ha bisogno di alcune svolte ha bisogno di ulteriori innesti ha bisogno di forze differenti l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo è che la fiorentina non abbia un centravanti la fiorentina ne ha due di centravanti sono giovani devono crescere sono acerbi però la fiorentina ne ha due e allora magari si potrebbe anche pensare di farli giocare vlavic ha dimostrato non solo ieri sera con il capolavoro servito ad andanovic di essere un ragazzo con un potenziale molto interessante a questo sinistro improvviso e fulminante ricordate anche soprattutto il secondo gol che segna il cagliari nella partita perse 5-2 ma quella sterzata con sinistro sul secondo palo ha grande potenza fisica sembra un ragazzo anche focalizzato è molto verde deve migliorare deve crescere infatti quando subentra una cosa quando gioca da titolare è un'altra però è un centravanti è un centravanti con delle prospettive e poi ce ne sarebbe un altro che è pedro io adesso non so se pedro abbia delle difficoltà fisiche tali da non consentirgli di fare neanche un minuto però io pedro l'ho visto giocare in brasile ripeto non è il nuovo van basten però è un giocatore che meriterebbe almeno di avere della credibilità e vedo nella fiorentina giocare boateng entrare seric e allora mi chiedo forse pedro potrebbe dare qualcosina anche se poi bisogna valutare le sue condizioni e bisognerebbe vederlo tutti i giorni in allenamento questo per quanto riguarda l'inciampo dell'inter a firenze un inciampo del quale ha approfittato la juventus juventus che ha risposto dopo il pareggio col sassuolo dopo la sconfitta con la lazio è tornata a ruggire in campionato lo ha fatto va detto nella partita perfetta per dare una risposta perché affrontare l'udinese in casa oggi era veramente la miglior condizione possibile per poter rifiorire e la miglior condizione possibile per lanciare e mettere ancora di più sulla bocca di tutti la parola tridente perché sarvi ha fatto giocare dall'inizio iguain di bala e cristiano ronaldo e la juventus è stata splendida è stata rullante è stata una squadra che ha raso al suolo l'avversario però ripeto questa era la partita perfetta ve lo continuo a dire fin da quest'estate ve l'ho detto anche nel commento al turno di champions league se volete il mio pensiero il mio pensiero è totalmente allineato a quello di maurizio sarri questi tre insieme possono fare grandissimo calcio ma lo possono fare in certe partite sicuramente lo possono fare in tutte le partite ma in porzioni di partita se ci sono le condizioni e se ce n'è bisogno altrimenti questi sono semplicemente anche se semplicemente è l'avverbio forse meno indicato perché non c'è niente di semplice non c'è niente di normale ma sono tre straordinari potenziali a disposizione di un allenatore che li sta gestendo molto bene e infatti la juve fin qui ha centrato tutto quello che doveva centrare ovvero si è qualificata in carrozza in champions league è prima in campionato avendo ripreso l'inter tra l'altro ha ritrovato anche bentancur ha ritrovato anche douglas costa nell'ultima partita e guarda caso quando arrivano gli impegni decisivi all'orizzonte la juve c'è la juve cresce di condizione a nel mirino la supercoppa vedremo come andrà a finire nel frattempo ripeto guarda caso in questi momenti la juve si presenta e si presenta in grandissimo spolvero il totem juventino sentivo ancora qualche giorno fa dire ronaldo non è in forma ronaldo in difficoltà ronaldo in declino mi viene veramente da ridere ridere per non piangere perché ronaldo ha calato un'altra doppietta per la prima volta da quando in italia ha segnato per quattro gare consecutive cinque reti nelle ultime quattro partite per cristiano ronaldo se è un giocatore non in forma non oso pensare cosa sarà quando sarà davvero in forma come dice il pensiero di qualcuno soprattutto se la juventus ha dei problemi allora sono sicuro che tutte le altre ne hanno molti di più chi continua ad avere qualche problema è il milan milan che insomma mi viene da fare una battuta nel giorno in cui festeggiava con tutto lo sfoggio della sua storia e dei suoi campioni i 120 anni dalla fondazione del club più titolato d'italia a livello internazionale il milan ha fatto 0 a 0 in casa col sassuolo e potrebbe essere una fotografia del distacco che c'è fra passato e presente in realtà ripeto è una battuta perché leggerla così sarebbe ingeneroso il milan gioca il milan ha delle idee il milan a tratti è quasi bello infatti contro il sassuolo ha tirato più di 20 volte ha colpito due pali il portiere pegolo ha fatto parate di ogni tipo però se all'inizio della gestione pioli io continuavo a sottolinearvi che andava valutata la crescita della squadra perché si partiva veramente da zero bisognava costruire il tutto e i risultati potevano stare in secondo piano cosa vi ho detto nelle ultime tre settimane ora che la squadra si è trovata si è costituita e comincia ad esprimersi servono le vittorie ne servivano tre di fila contro parma bologna e sassuolo la terza non è arrivata sono solo sette punti solo anche in questo caso è esagerato però sono sette punti e adesso il milan è proprio di punti che ha bisogno di conseguenza questo è un mezzo passo falso soprattutto perché si pone in maniera piuttosto evidente un problema ed è quello della concretizzazione il problema del centro avanti perché ancora una volta piontek ha avuto fiducia e piontek non ha dato quello che doveva dare non ha fatto gol poi forse gol ancora più clamorosi gli hanno sbagliati gli altri penso a quello di ben nasser a porta vuota o anche a un tap in di che si è finito fuori dallo specchio gol aveva segnato teo hernandez ma è stato giustamente annullato proprio per un controllo di braccio di che si quello che da benzina le mie convinzioni è stato il quarto d'ora scarso dato a leao leao è entrato per piontek e ripeto in 12 minuti più recupero ha incendiato il prato ha colpito due pali ha dimostrato di essere un vero crack in potenziale ok l'atteggiamento che è la necessità di immaturare soprattutto nelle attitudini però io penso che il milan di oggi non possa davvero permettersi di prescindere dalle a o per quello che è lo stato di forma del suo concorrente e per quelle che sono le potenzialità di questo ragazzo così come credo che sia da coinvolgere pacchettà pacchettà è entrato bene non benissimo neanche male ha avuto subito un'occasione anche lui è andato a sbattere sul portiere avversario ma il milan deve per forza trovare la svolta puntando sulla qualità perché non è una squadra di muscolo e non è una squadra che può avere una finezza tattica totale è una squadra che deve giocare in velocità deve giocare di tecnica il ritorno di buonaventura è un'ottima notizia di conseguenza pacchettà deve essere un giocatore da coinvolgere una preoccupazione in vista della poderosa partita di domenica prossima che chiuderà il 2019 dei rossoneri è la squalifica di teo hernandez perché il milan è totalmente dipendente da questo sfolgorante terzino e teo hernandez è stato ammonito di conseguenza a bergamo non ci sarà sarà una super partita quella di domenica prossima all'ora di pranzo allo stadio dell'atalanta un'atalanta che ha vissuto una domenica da bocca storta perché ha incontrato la prima sconfitta esterna del suo campionato ha perso al dall'ara di bologna io c'ero ho commentato la partita è stata una bella partita ho visto un'atalanta da pagare dazio direi quasi fisiologicamente all'impresa storica fatta in settimana in ucraina e soprattutto alle assenze perché oltre ai forfè già preventivati di sapata ilici ci si è aggiunto anche quello del papo gomez e il tridente titolare non lo può regalare nessuna squadra del mondo figuriamoci l'atalanta le alternative sono date da fare perché muriel non bene nel primo tempo ma nel secondo meglio almeno fino alla sostituzione malinowski ha fatto gol il suo secondo consecutivo in serie a pasalic ci è arrivato tante volte si è mangiato un'occasione alla fine del primo tempo che grida vendetta all'atalanta è mancato un pizzico di fortuna perché le occasioni indubbiamente le ha create è mancato il fatto di avere quella lucidità quella capacità feroce di andarsi a prendere il risultato che non poteva avere dopo la settimana che ha avuto infatti pensate anche solo alle occasioni costruite negli ultimi minuti ancora quel colpo di testa di gym city al novantesimo che è finito fuori di poco in altre condizioni l'atalanta questo risultato lo avrebbe preso e invece ha vinto il bologna una vittoria fondamentale per la squadra di siniscia mihailovic ancora una volta acclamato dal dall'ara tra l'altro uno dei momenti più toccanti del pomeriggio è stato un discorso fatto a tutto lo stadio da mihailovic nel prepartita perché prima del match è stato premiato è stato coinvolto l'allenatore del bologna visto che era una giornata che il club ha voluto dedicare all'ail un'associazione alla quale lui ma tutti noi dobbiamo essere sempre molto vicini perché si occupa della ricerca contro le leucemie contro i linfomi contro i mielomi e mihailovic ha fatto un discorso molto sentito che più che commuovere ha caricato perché ha spronato tutti a lottare nella vita a spendersi per la ricerca a spendersi anche per le donazioni e questo aveva già fatto sì che lui la sua squadra e tutta bologna vincessero già prima del fischio d'inizio poi però il bologna aveva bisogno di vincere anche la partita e lo ha fatto lo ha fatto trascinato da un giocatore fantastico a quasi 38 anni rodrigo palassio è ancora un campione assoluto un giocatore entusiasmante un giocatore anche di sostanza impressionante per un elemento di questa età ho ammirato palassio dal primo pallone che ha toccato all'ultimo è stato veramente un piacere vedere questo giocatore ed è stato anche bello vedere una squadra come il bologna che fin qui è stata assolutamente incompiuta al di sotto delle proprie potenzialità è una squadra che ha delle qualità deve prendere fiducia deve trovare anche un sistema deve forse integrare in certi reparti soprattutto direi sul terzino sinistro magari anche un difensore centrale in più però è una squadra che può fare meglio di quanto fatto finora e comunque con questa vittoria la classifica non è poi così male passo alla roma la roma ha vinto ancora la roma ha dovuto ribaltare la partita in casa con la spal perché ha chiuso il primo tempo sotto 1 a 0 per il rigore stavolta realizzato da petagna è stata un'illusione per la formazione di semplici perché poi nel secondo tempo la partita si è messa a posto dico si è messa a posto perché la roma non meritava di essere sotto all'intervallo e la roma ha più che meritato di vincerlo questo match la roma ha molto bisogno della pausa invernale è una squadra stanca una squadra che ha dato tanto e non potrebbe essere diversamente vista la sequella di infortuni che ha colpito la rosa di fonseca ma ancora una volta fonseca ha trovato le giuste contromisure ancora una volta la roma ha dimostrato di essere squadra vera squadra piena di risorse un esempio le indisponibilità di smalling e mancini hanno fatto sì che contro la spal la coppia di difensori centrali fosse formata da cetin e fazio non avevano mai giocato insieme e tutto sommato al di là di qualche scompenso vedi l'incomprensione sull'azione che ha portato proprio al rigore poi trasformato da petagna la difesa ha retto regge tutta questa roma c'è un dato che mi ha impressionato leggendo i numeri al termine della giornata la roma ha segnato gli stessi gol della juventus e subito gli stessi gol della juventus è impressionante ha il rendimento realizzativo e difensivo della squadra otto volte campione d'italia e al momento prima in classifica a pari merito con l'inter questo è un grande risponso su cosa abbia fatto finora fonseca e su cosa possa fare questa squadra che pian piano sta recuperando dei pezzi pellegrini da quando è rientrato ha messo il proprio zampino praticamente in ogni partita infatti un suo tiro deviato da tomovic ha inaugurato la rimonta gecko sta un filo arrancando fisicamente si vede che è stanco si vede che non è lucidissimo però ha procurato il rigore che un cavallo di rientro come perotti ha segnato per la terza volta nelle ultime tre partite è andato in gol ancora miki tarianne entrando dalla panchina insomma io credo che adesso la roma debba tirare il fiato e poi riprenderà su questa linea la linea di una squadra costruita molto bene in pochissimo tempo e con grandissimi meriti soprattutto da parte dell'allenatore manca da analizzare una partita ed è la partita più impossibile da analizzare ovvero quella che ha aperto la domenica il 3 a 3 del bentegodi fra verona e torino con il torino che aveva regalato 60 minuti di calcio che il toro non esprimeva da diverso tempo vinceva 3 a 0 addirittura con doppietta di ansaldi l'uomo del momento in casa granata inframezzata da un gol di berenguer che è stato demoniaco veramente in questi 60 minuti anche nel primo tempo stava sferando un gol subito in avvio con un'azione quasi da numero 10 di altissimo profilo non mi viene da dire quasi da messi però ci siamo intesi il concetto è più o meno quello ho visto uno zazza molto combattivo ho visto una squadra elastica forte una squadra focalizzata che meritava di vincere 3 a 0 contro una squadra come il verona poi però c'è stato un blackout pazzesco ci sono stati ancora errori difensivi incommentabili perché il modo in cui il torino al di là del rigore che mazzari anche un po contestato ma davvero oggi di arbitri non ne voglio di parlare al di là di quello gli altri due gol sono frutto di mancate marcature di movimenti completamente scoordinati che sono assolutamente difficili da comprendere e da accettare soprattutto da parte di una squadra che nella stagione scorsa ha avuto una difesa blindatissima e costruiva su quello i propri successi il torino ha buttato via due punti ha buttato via altri due punti questi sono dolorosi anche per l'immagine data perché il toro in tutta la sua storia in serie a non si era mai fatto rimontare tre gol di vantaggio e in tutta la sua storia in serie a non aveva mai rimontato tre gol di svantaggio il verona che ancora una volta ha dimostrato di avere un carattere d'acciaio il verona è in flessione questo è innegabile e questo è anche normale perché veramente questa squadra è andata a un livello pazzesco e forse quasi naturale nei primi due mesi e mezzo forse anche tre di campionato poi sono subentrati alcuni infortuni quello di veloso che è rientrato però ha perso qualche partita ha perso un po di sbalto c'è stato l'infortunio di kumbulla anche lui è rientrato però è normale insomma pagare qualcosa silvestri era stato salvifico nella prima parte di stagione adesso qualche piccola sbavatura la sta trovando ripeto tutte cose normali quel che continua ad essere poco normale nel verona è veramente quest'unità questo carattere questa capacità di risollevarsi tra l'altro il verona comincia anche a trovare i gol degli attaccanti si è sbloccato ormai da qualche settimana di carmine addirittura ha segnato pazzini che non andava in gol in serie a da tempo in memore contro il torino segnando perfettamente il calcio di rigore e mi viene da dire addirittura anche per quanto riguarda il ritorno al gol di stepinski quindi è una squadra che ha già messo tanto fieno in cascina che non si permette alcun tipo di svolazzamento è una squadra molto determinata verso il proprio obiettivo un obiettivo che credo proprio che c'entrerà questo dunque il commento alla ricca domenica di serie a adesso però vi lascio vi lascio le riflessioni sul campionato ma ci rivediamo già questo pomeriggio perché c'è un appuntamento importante attorno all'ora di pranzo ci sono i sorteggi di champions league ed europa league e ovviamente non ve lo devo dire l'appuntamento è a fra poco per commentarli tutti